Buongiorno, è scivolata via in un silenzio preoccupante una vicenda che ci interessava e che purtroppo abbiamo potuto approfondire molto poco. È la vicenda di Napoli, questa città italiana fra le più travagliate, al centro di un'attenzione pericolosa, vittima di incompetenze, di ladrocini, è diventata simbolo, suo malgrado forse, del degrado e della disgrazia. Si è risolta in questi giorni, e i giornali ne hanno parlato pochissimo, intendiamoci, ho stentato a trovarla la notizia, si è risolta nel silenzio la vicenda amministrativa del Comune di Napoli. Niente, ne hanno approfittato i responsabili, pochi rimasti del disastro, con la proposta di un atteggiamento tipicamente marinaro, cioè la fuga dei topi al momento del naufragio della barca. I topi sanno, sentono, percepiscono per un sesto senso il disastro e riescono sempre a scappare prima che la nave si inabissi. I topi sono scappati e questi parassiti repellenti sono andati via, sono andati via tutti in fila, come è tipico dei ratti schifosi, e hanno significato con questo l'abbandono di un sogno, di un incarico, di un'utopia, di quello che volete voi, ma di una sconfitta. 31 consiglieri l'altro giorno si sono dimessi, tutti in fila, me li immagino, questi sorci tremendi, si sono dimessi perché hanno capito che non c'era più niente da fare. La loro omissione era completamente fallita, quindi tanto valeva rimettere il mandato. Che è successo? Che persino il mandato non sono riusciti a fare e a concludere, perché anche al mandato mancavano dei margini di legalità, per cui il commissariamento del Comune di Napoli non è potuto avvenire ancora. Ma comunque 31 persone in fila hanno detto noi non siamo stati capaci di gestire questa amministrazione. Bene, la sensazione di disagio, senz'altro, ma anche di vergogna. Eppure non credo che sia così facilmente recepibile questo senso di disgusto per un fallimento così plateale. Ma poi voglio dire, te ne accorgi due mesi prima dello scadere del mandato. Vergogna veramente. Fino a due mesi fa tutto abbastanza bene, tiriamo e tiriamo. Poi tanto ormai è scaduto, comunque si rifanno le elezioni, dimettiamoci. È vergognoso, è uno scandalo. Questi 31 ultimi sorci che abbandonano la nave sono il simbolo di un fallimento che veramente la città di Napoli non merita, sicuramente non merita, non perlomeno in questi termini. È stata una città massacrata dall'incapacità della disonestà, dall'illegalità, dalla camorra, da una concezione politica antica e insopportabile ormai. In cinque anni il sindaco di Napoli cosa era riuscito a fare? aveva perso nove consiglieri, non solo, ma non aveva portato a termine un solo, una sola delibera. In cinque anni niente. Benissimo, sono stati cinque anni lì a fare che? A recepire lo stipendio, a tenere calda la cadrega, il seggiolino e aspettando cosa? Che scadesse il mandato? Cosa che è successo adesso? Io trovo tutto questo semplicemente scandaloso. Questo è veramente la vergogna di una classe politica che andrebbe additata al disprezzo di tutti. Non votateli più. Che cosa hanno fatto questi? Niente, sono scappati al momento dell'assunzione di responsabilità, non hanno combinato un accidente e cosa vogliono adesso? A due mesi dalla scadenza fingono di rendersi conto che hanno fallito? Ma vergognarsi bisogna, non lo so io, questo gruppo di incapaci che ha resistito a ondate di scandali, di fango, di immondizia, di tutto quello che può capitare di disgraziato a una città sfortunata, tutto è capitato e nessuno di questi è riuscito a salvare la faccia. Ma non c'è di che vergognarsi. Sì, sì, benissimo. Voi pensate che questo cambierà la situazione? Tra qualche giorno si parlerà di primarie, tutti andranno a votare per il loro candidato preferito, probabilmente anche uno di questi sorci in fila che hanno resistito fino alla fine per non perdere un euro di stipendio. Sì, continuate a votarli. Io non ci credo però. Io penso che la gente si sia resa conto che tutto questo deve finire, perché un'altra occasione, questi 31 sorci ultimi scappati, non la possono trovare, perché Napoli è una città che non può continuare a essere offesa in questa maniera, non lo merita. Io la proteggo. Ciao.